L'intervento del Consigliere Boschini ci sembrava utile fare una proposta per addivenire almeno ad una formulazione condivisa. Quindi mi sembra che il Consigliere Boschini dicesse che non era d'accordo ad inserire le forme di gestione dei servizi pubblici, ma ci sembra che potrebbe essere almeno un punto condivisibile quello di inserire all'interno dei progetti che riguardano gli assetti istituzionali almeno il tema dei bilanci partecipati, perché ci sembra un tema che sia trasversale in tante amministrazioni comunali di tanti colori e di tante estrazioni e sappiamo che molte amministrazioni trattano questo tema. Quindi inserirlo in maniera esplicita almeno il tema dei bilanci partecipati ci sembra importante, al di là del fatto che abbiamo sicuramente sulla partecipazione e la democrazia partecipata due visioni veramente diverse, perché prima il Consigliere Boschini parlava di democrazia di rappresentanza e come complemento la democrazia di partecipazione, per noi la democrazia di partecipazione non è un complemento, ma fa parte strutturale del concetto di democrazia, dove ovviamente il percorso fra democrazia partecipata e democrazia partecipativa è un percorso di avvicinamento fra due aspetti diversi per decidere insieme la vita di una comunità, ma l'aspetto della democrazia partecipata è radicale all'interno della nostra visione e non è sicuramente un complemento.